Giovedì 9 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che partirà una nuova registrazione, precisamente quella che è stata effettuata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al contempo, però, ammetterà di aver notato anche una corteggiatrice di Claudio. Maria De Filippi lo redarguirà accusandolo di non comportarsi bene con le donne. Ne conseguirà una discussione molto accesa a seguito della quale il cavaliere uscirà dallo studio furioso. Dopo un po' di tempo, poi, vi rientrerà e la padrona di casa gli chiederà per quale ragione ha cambiato idea. Dopo un nuovo scontro, Di Maro si renderà conto di non essere più ben accetto in studio, così andrà via.